Musica Un cordiale saluto e buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori che ci seguite con tanto affetto tutte le mattine alle 7 e mezzo in diretta con le repliche che si susseguono fino alle 8 e 30 poi alle 9 e 10 e alle 13 e 30 ma anche quelli che ci seguono su internet da ogni parte del mondo e si collegano per vedere on demand la nostra rassegna stampa e quindi i giornali e le notizie locali Cominciamo dal Santo del Giorno, oggi il calendario ci segnala Santa Margherita d'Ungheria stiamo parlando di una santa del 1242 che è nata in Dalmazia, la figlia del re d'Ungheria è una donna che ha dato tanto per la chiesa, è morta il 18 gennaio del 1270 e fu d'aiuto per i cristiani appunto di quelle terre di Ungheria il sole è sorto alle 7 e 37, tramontarla alle 16 e 58, dopo la neve attenzione al ghiaccio davvero questa mattina soprattutto per quelli che risiedono nell'entroterra perché forse non tutti se ne sono accorti ma ieri sera intorno alle 22, 30, 23 insomma è ripreso a nevicare nell'entroterra e quindi questa mattina c'è la neve, c'è neve a terra, quella che poi ieri aveva sciolto durante il pomeriggio ieri sera poi è ritornata e poi la ghiacciata perché siamo a meno 2 nell'entroterra mentre qua sulla costa siamo a 0 gradi, intorno a 0 gradi, sto parlando della temperatura delle 7 e 30 del mattino chiaramente. Allora andiamo adesso a vedere le previsioni della protezione civile delle marche per oggi oggi è previsto cielo nuvoloso nella prima parte della giornata con copertura in diradamento ad iniziare dal settentrione, quindi dalla provincia di Pesaro Urbino avremo possibilità di brevi locali fenomeni, residui nelle prime ore del mattino, in queste ore nel settore meridionale della regione, infatti basta guardare dalla vallata del Metauro verso quella del Cesano per esempio si intravedono delle nuvole, i cumulonembi che buttano giù ancora neve, è un fenomeno molto bello quindi ci saranno infatti nevicate fino a quote molto basse localmente anche in pianura quindi non è escluso che da quelle parti in provincia di Ancona stia ancora nevicando i venti sono moderati dai quadranti settentrionali, il mare sarà molto mosso con moto ondoso in attenuazione, attenzione come dicevamo alle gelate durante le ore più fredde della giornata, mentre per domani vedete il tempo migliore nel senso che non ci sono precipitazioni previste però il cielo continua ad essere nuvoloso. Per i prossimi giorni avremo possibilità di lievi condizioni di stabilità atmosferiche sulle Marche nelle giornate di mercoledì e giovedì allora oggi il tema caldo della giornata sarà quello della sanità perché a Fano è previsto un consiglio comunale monotematico dove parteciperà anche il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli nel frattempo ieri mattina per chi ha seguito nei giorni scorsi la cronaca legata appunto al mondo della sanità che cambia nelle Marche ricorderà di quella protesta clamorosa di Ivan Cottini il giovane modello malato di sclerosi multipla che aveva deciso, annunciato e bruciato alcuni medicinali per protestare contro il riordino degli ospedali soprattutto quelli dell'entroterra ebbene ieri mattina il presidente Luca Ceriscioli ha incontrato, ha voluto incontrare Ivan Cottini ecco qua il titolo dal resto del Carlino Ceriscioli va da Cottini che riprenda a curarsi il presidente assicura che rimetterà a posto le cose in questa fotografia il tema della sanità oggi è su due pagine, la 2 e la 3 del Carlino quindi Ceriscioli tiene con una mano il cartello la sanità è un diritto anche per l'entroterra firmato Luca Ceriscioli, Ivan Cottini ma dietro qui lo vedete con Federico Talè consigliere regionale comunque la notizia appunto è questa che Cottini ha ripreso le cure mentre si parla anche del fronte dell'ospedale unico per esempio dove Fano vuole solo Chiaruccia cioè vuole che si costruisca l'ospedale unico a Chiaruccia torna così in auge questa richiesta anche se poi probabilmente lo sapremo meglio oggi insomma sull'ospedale unico c'è chi ormai ci ha perso le speranze dicevamo del consiglio a Fano oggi è convocato alle 18.30 è un consiglio tematico sulla sanità parteciperà Ceriscioli si parlerà dell'ospedale unico e dell'azienda Marche Nord andiamo a vedere allora l'altra pagina perché ecco vedete Ceriscioli sul lato sulla fotografia qui a destra mentre questo professore che vedete qui nell'immagine con il camice bianco è Lofreda che è stato confermato primario si investe dunque sulla medicina d'urgenza già attivati i 15 posti letto a febbraio arriverà l'osservazione breve ci sono nuove procedure facciamo da filtro al ricovero nei reparti le terapie iniziali si faranno qui conta la qualità e c'è un'intervista di Damiani sul giornale di questa mattina la cronaca invece ci porta a Smira di Cagli dove c'è stato un terribile incidente uno scontro tra due auto purtroppo ferite sono rimaste due persone giovanissime frontale all'alba a Cagli è gravissimo un ragazzo ferito a una donna il 21enne è stato operato alla testa l'eliambulanza non è arrivata per la nebbia oltre al 118 chiamati i volontari di Fossombrone ha piccato il fuoco ad un autocarro forse si pensa ad un gesto intimidatorio a Tavuglia è stata gettata benzina nell'abitacolo di un mezzo della DAB gravi sono i danni mentre fanno solidarietà per il palazzetto dello sport per la raccolta fondi da destinare alla famiglia del piccolo Federico Mezzina sfide e divertimento per tutti al torneo quadrangolare di volley e c'è stata una bella fluenza di pubblico al palazzetto dello sport per questo quadrangolare di pallavolo andiamo adesso invece sull'altra pagina del Carnino perché si parla già di carnevale è uscito lo troverete lo trovate anche sul nostro sito internet toccanomotizia.it è uscito una sorta di programma del carnevale con tutte le novità lo vedremo tra poco anche su un altro giornale i carri negli hangar nei capannoni già scalpitano il carnevale di Fano è alle porte sabato il palio ecco già la prima novità il palio degli uomini nudi sì avete letto e capito bene i nudi sta per nudi quindi persone che correranno una gara podistica con una mascherina e poco altro anche se chiaramente il poco altro servirà per coprire chiaramente le parti quelle che devono rimanere coperte andiamo adesso a vedere sulla pagina del resto del Carlino lo sport per dirvi che il Fano ha vinto in trasferta 3 a 0 contro Fongore Veregra Tris e secondo posto adesso per il Fano che ora prova prova la riscossa sulla San Benedettese anche se è un pezzo avanti ma comunque insomma bisogna puntarci ancora sperare e continuare la corsa dagli spogliatoi il mister del Fano Alessandrini dice e parla di una vittoria che dà sicuramente fiducia Zaini così non va dice invece l'allenatore della squadra di casa ci manca la serenità insomma pensiamo ad una gara per volta dice comunque Alessandrini adesso andiamo sul Corriere Adriatico allora il Corriere Adriatico in primo piano chiaramente mette in evidenza il consiglio di oggi si alzano le barricate perché arriva Ceriscioli in consiglio mentre il sindaco con forza chiede più servizi per l'ospedale Santa Croce di Fano e candida Chiaruccia come sito dell'ospedale unico sotto invece gli uomini nudi apriranno il carnevale anteprima sabato con il recupero della corsa antica infatti va detto che quello della corsa degli uomini nudi non è un'invenzione di oggi ma è una cosa che veniva fatta tanti 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 anni fa dal 24 di gennaio per tre domeniche esplode la festa all'esordio di mattina la manifestazione dei bambini un grande carro fa satira sulla promozione poi ieri c'è stata la festa in tanti paesi dove la tradizione ancora continua la festa di Sant'Antonio con la benedizione degli animali ieri sulla costa gli animali hanno avuto non solo la benedizione del parroco ma anche quella del cielo con la neve che è caduta copiosamente soprattutto in piazza 20 settembre guardate questa immagine dove c'è anche padre Silvano Bracci ve lo faccio ve lo indico con il pennarello giallo perché la foto non si vede qui benissimo poi qua c'è anche il sindaco e poi naturalmente vedete gli animali con il cagnolino sotto ma tanti canivali c'erano anche i cavalli insomma ci sono delle foto in giro anche sul nostro sito internet che potete vedere molto belle poi sempre sul corriere adriatico andiamo a Pesaro allora a Pesaro anche qui la cronaca schianto tra due auto a smirra gravissimi due conducenti poi sotto primi fiocchi sul litorale pericolo ghiaccio imbiancate Pesaro e Fano ma è questione di un'ora in azione i mezzi di spargisale della provincia temperature bruscamente abbassate il mare molto mosso accentua l'erosione danni a Fano in Viale Ruggeri sotto ancora sul corriere delusione e polemiche al tattoo expo di Pesaro c'è poco pubblico il rapper che doveva cantare ha fatto semplicemente due canzoni e poi se ne è andato via per la scarsa affluenza protestano anche alcuni espositori che e due hanno dato forfè l'organizzatrice comunica 7000 presenze nei tre giorni era la prima volta il cantante è stato un maleducato quello che se ne è andato poi da Pesaro e provincia i comitati chiedono l'unità dei territori Fossombrone sempre sulla sanità lancia l'appello per la giornata della salute a febbraio con protesta ad Ancona e il PD del Montefeltro difende la deputata Morani nella polemica con il sindaco di Sasso Corvaro poi Alessandri spiega l'unico no e Grossi resta incatenato anche qui il rogo nella notte distrutto un forgoncino chiasso notturno invece a Urbino insopportabile c'è un esposto dei residenti per la Movida giovanile che a quanto pare appunto disturberebbe il sonno di qualche residente urbinata andiamo adesso sempre di Movida si parla ma non per il chiasso ma peraltro ben più grave sicuramente lo spaccio di droga Movida blindata ha preso un pusher il pusher lo ricordo è colui che vende la droga agli acquirenti ai tossici task force con cani in un night e sale slot un tunisino è stato catturato dopo una fuga da film posti di blocco e blitz a Senigallia nei locali multe per violazione al codice della strada poi ricorderete il bancomat esploso sabato anzi venerdì notte a tre castelli a tre castelli di Monteporzio o Ponte scusate di Ponterio proseguono le indagini da parte dei carabinieri per risalire alla banda che nella notte tra venerdì e sabato ha fatto saltare il bancomat della banca popolare di Ancona in via 8 marzo a Ponterio di Monterado nel comune di Trecastelli i carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni si tratta dei residenti che si sono svegliati a seguito del boato e che hanno notato almeno due banditi incappucciati e poi è morta festeggia il suo compleanno e poi muore Anna Maria Marinelli di Senigallia oggi alle 14.30 i funerali nella chiesa del porto e ad Arcevio invece si è spento Sante Aguzza andiamo adesso sulla pagina di Pesaro del messaggero allora in apertura le spese facili dei consiglieri non solo dei consiglieri regionali ma ci sono 66 persone tra consiglieri e quant'altro che oggi andranno andranno davanti al giudice parliamo dei rimborsi in consiglio regionale un'inchiesta che al dunque processo o archiviazione indagini su 4 anni di spese cioè dal 2008 al 2012 alcuni sono già stati scagionati dalla Corte dei Conti altri attendono un esito favorevole insomma sulle spese facili in consiglio regionale è il giorno del giudizio per questi 66 tra consiglieri portaborse che hanno solcato l'aula nelle ultime due legislature accusati di aver percepito rimborsi non dovuti appunto tra questi anni tra il 2008 e il 2012 il maltempo invece a centro pagina lo vedete con la prima neve che imbianca la costa e le colline annunciata desiderata da qualcuno non prevista la prima neve del 2016 ha imbiancato Pesaro e provincia concentrandosi soprattutto sulla costa e le fasce colline a Cagli il gelo invece causa un incidente e due feriti ecco qualcuno non prevista anche questo è un dato interessante lo abbiamo sottolineato un po' a modo nostro prendendoci una sorta di rivincita contro quelli che ci accusavano soprattutto sui social network di mettere neve sulla costa di insistere mentre in realtà i siti quelli più importanti considerati affidabilissimi mettevano sole su su tutta la costa in particolare quella che riguarda Fano e Pesaro noi invece abbiamo insistito perché in particolare con geometrio.it la previsione era quella delle nevicate abbiamo insistito ci abbiamo preso è stata una previsione azzeccata nel minimi dettagli e quindi ci siamo presi una bella rivincita quindi la neve da qualcuno non prevista evidentemente sbaglia sito di informazione allora andiamo avanti velocemente questa è una notizia che vediamo dalla pagina regionale delle Marche prima che mi cacci che mi cacci non me ne vado io dentro il movimento 5 stelle terremoto bisogni il consigliere regionale lascia il movimento restano in quattro ha il fratello assessore non l'ha detto e quindi adesso mi vogliono espellere poi task force per le spiagge fantasma siamo sulla pagina di Pesaro maltempo e mareggiate erodono il litorale di Ponente le scogliere non bastano più parte una fase sperimentale l'allarme dei concessionari raccolto dall'amministrazione pesarese mercoledì un incontro con le associazioni che chiedono di intervenire subito domani c'è l'addio a Roberto Nardini stroncato da un infarto in pieno centro a Pesaro Roberto Nardini è uno storico dipendente della Maison di Moda e Abbigliamento Ratti di Pesaro è morto sabato mattina stroncato da un infarto lungo corso 11 settembre nel cuore del centro storico dove abitava e lavorava avrebbe compiuto 65 anni il prossimo maggio il nuovo ospedale invece resta strategico per Pesaro e Fano oggi al Consiglio Comunale monotematico atteso Ceriscioli il segretario del PD Fanese Marchegiani dice non va smarrito il fulcro del dibattito poi anche qui si parla di neve e quant'altro poi sotto Proloco e Avis si impongono per Federico ma il vincitore del torneo di pallavolo è la solidarietà l'incasso della serata aiuterà il piccolo a curarsi l'ultima pagina del messaggero è giorno e notte si parla di Carnevale di Fano eccolo qua il Carnevale riscopre i veglioni domenica prossima la prima delle tre sfilate tante novità dal ritorno delle feste in maschera al paglio degli uomini in udio è tutto grazie per averci seguito buona giornata a domani grazie a tutti